Salve a tutti amici, oggi sono qui nel mio orto, voglio raccogliermi qualcosa di verdura giusto per farmi un po' un... Mangiarmi un po' di verdura oggi, mangiare un po' di verdura oggi, ovviamente moni, eccoci qua E verdura nel senso, voglio farmi una pasta con un po' di tutto quello che mi rimane ora sull'orto, ecco Come potete ben vedere, non è che rimane tanta roba, però noi ci adattiamo sempre Poi ci metterò le olive mie, le olive mie dell'anno scorso, a casa, poi ci metterò la cipolla E voglio fare ancora un po' di... utilizzare ancora un po' di quella verdura che mi rimane per fare, ecco Questa è la terrina, non mi posso cucciare troppo perché ho il microfono, ma fa niente Sto ancora ultimando le cose, sto registrando sempre con il mio telefono Devo ancora ultimare il tutto, vedremo dopo come... vedremo come fare Mi voglio anche fare un bel peperoncino oggi perché... Eperoncini, guardate che bello Adesso lo raccolgo alla doc Guardate che spettacolo, guardate che peperoncino, guardate che bello Che è genuino E questo qui, questo qui vi fa fare le sfiamme, le fiamme Da tutto, dalla bocca, dappertutto Però lasciamo andare, ecco I peperoni, vediamo quanti ne ho già presi di peperoni Vediamo I peperoni ne ho già presi Come stanno i peperoni? Stanno ancora facendo i fiori, quindi li lasciamo Lasciamo più possibile i peperoni Adesso mi vado a raccogliere un po' di pomodori Pomodori io ho poca roba ancora Perché comunque è così Però avendoli piantati un po' tardi Cioè, non tutte le piante Ma certe piante, avendoli piantate un po' tardi Posso andare a raccogliere ancora pomodori Per un bel po' Anche se siamo a ottobre Adesso mi ricordo il numero perché Non so dirvi Ma comunque siamo ancora a ottobre, quindi posso ancora benissimo Andare a raccogliere i miei pomodori Non c'è tanta roba, però Quelli che ci sono di pomodori sono stradette così Anche se è un po' crepato, non importa Tanto lo devo mangiare io Non è che devo stare qua A darlo via, a venderlo E quindi me lo mangio io Quindi anche se è un'attacca di brutto Un'attacca di brutto, quindi di marcio Tra virgolette, che è un po' brutto Io non faccio altro che andare a pulirmelo Nel senso, vado a tirar via la parte brutta E me lo mangio, ecco Io non sono uno di quelli che Uno di quelli molto schizzinosi, ecco Se fosse una roba comprata La butterei via Perché non so che ciclo ha fatto Non so dove è arrivato Quindi se fosse marcio La butterei via Può essere marcio da una settimana Può essere marcio da un giorno Ecco, vedete che pomodori che ho io Guardate che bello questo Questo qui è un san marzano È un san marzano semi alto come pianta È una pianta che comunque Mi ha prodotto tanto E sta ancora producendo tanto Non so se riesco a fare verdi verdi Eccoli qua verdi Adesso ovviamente li fa un po' piccoli Però comunque sono veramente Buoni, gustosi E soprattutto Soprattutto si mantengono bene Eccoci qua Raccogliamo ancora qualche pomodorino Per metterlo nel mio sugo Eccezionale Ovviamente sugo alla doc Vuol dire un sugo eccezionale Buonissimo Che io faccio sempre con pomodori Metto dentro i pomodorini tagliati Faccio un primo Un po' di cipolla Un po' di olio Un po' di Ci metto dentro Magari a volte Dipende quello che ho Magari ci metto dentro Un po' di aglio Uno spicchietto di aglio Faccio soffriggere tutto Poi ci metto dentro Magari una carota Magari ci metto dentro Il peperone In questo caso La zucchina Devo andarla a prendere Da un'altra parte Però comunque ci metterò dentro Un pezzettino di zucchina Poi all'ultimo Quando Tutta la verdura più dura È quasi pronta Ci andrò Ad aggiungere il pomodoro Metto il coperchio Pochi minuti E finisce di Appassirsi Il tutto Vedete Pomodori neri Vedete Guardate che bello Questo pomodoro qua Nero Sono pomodori neri Non sto qui tanto a guardare La varietà O la sorte Di pomodori che metto Ma cerco di mettere I pomodorini Perché comunque Mi viene più semplice E poi viene anche più bello Perché li lasci Tagliati solo a metà Li spacchi a metà I pomodorini Siamo a posto Ecco Ci qua Vedete Eccoci qua così Niente Io Ora mi raccolgo La zucchina Mi raccolgo altri due pomodori E niente Voglio soltanto farvi vedere Che io Anche se è tardi Anche se la stagione Sta andando tardi Qualcosa ancora Vedete Di roba fresca Me la posso ancora mangiare E niente Spero che questo video Vi sia stato utile Io ve lo Ve lo mando così com'è Spero che anche l'audio Vi sia stato bello pulito Un'inquadratura su pomodori Che stanno ormai finendo Quando saranno finiti i pomodori Andremo a togliere tutto E a compostare tutto Ciao a tutti amici Da Paolo Fiat